Un capolavoro è per sempre. Léon è uscito nel 1994, ma ancora oggi è uno dei film più belli che io abbia mai visto. E quindi voglio dedicare questo video a Léon, perché credo che sia un film che merita di essere visto da chiunque. Il capolavoro di Luc Besson, perché secondo me è un capolavoro, narra la storia di un sicario, dalla vita stranamente priva di emozioni per un sicario, anche un po' malinconica, ed è il suo incontro con una ragazzina che scampa per miracolo alla strage della sua famiglia e questo incontro sconvolge la vita di entrambi. Ma io in questo video voglio dedicarmi solo ai primi dieci minuti, perché Luc Besson da subito realizza delle scene memorabili con una capacità registrica di alto livello e voglio analizzare queste scene. Si parte con i titoli di testa che scorrono mentre sotto di noi, a volo d'uccello, vediamo uno specchio d'acqua. La scena va avanti e iniziano a comparire degli alberi. Acqua, alberi, potremmo pensare di essere in campagna, in una atmosfera bucolica, c'è una musica di sottofondo che è dolce, tranquilla, ma improvvisamente davanti a noi vediamo lo scorso dei grattacieli di New York. Siamo a Central Park. Senza averci detto nulla, il nostro Luc ci ha fatto capire dove ci troviamo. E c'è anche una nota nella musica che si fa più insinuante quando compaiono in scena i grattacieli che ci fa capire che se Central Park è un posto tranquillo, New York non è così tranquilla. Compare Leon, che nel titolo del film ha caratteri grandi, e poi ci addentriamo per New York. Siamo sempre a volo d'uccello, ma stavolta si fa più radente. E l'inquadratura si fa più mossa. Perché ci muoviamo nei quartieri operai, vediamo molta animazione, c'è gente che va al lavoro, automobili che passano. Capiamo di non essere in una zona ricca, ma capiamo anche che è un momento in cui la gente si sta dando da fare. E questo dinamismo viene espresso anche dall'inquadratura che si fa più mossa e dalla musica, perché la colonna sonora si fa un pochino più veloce, un po' più adeguata a un clima di operosità, ma anche un clima meno rassicurante rispetto a quello di Central Park. Arriviamo poi allo striscione, alla scritta d'ingresso di Little Italy. Quindi siamo nel quartiere di Little Italy, e subito c'è uno zoom accelerato, e entriamo in un negozio, che scopriamo che sia un ristorante, e nello zoomare però lo slancio dell'inquadratura ci permette comunque di leggere la scritta. Supreme Macaroni e sotto Macaroni's Guido Restaurant. Quindi sappiamo che siamo in un ristorante, probabilmente di un italiano, italiano-americano, dove si fanno i macaroni, che sarebbero poi la pasta in generale, come gli americani la chiamano così. Fino adesso abbiamo visto la città, ma non abbiamo ancora visto i protagonisti, e la musica è sempre stata un accompagnamento importante. Nel momento in cui ci addentriamo dentro il ristorante, la musica si quieta, diventano fondamentali, diventano il centro dell'attenzione, le due persone che sono sedute intorno al tavolo. Queste due persone però noi non le vediamo bene. La prima inquadratura che ci mostra le due persone riguarda le mani di uno dei due che cingono un bicchiere di latte. Subito dopo vediamo gli occhiali scuri di questa persona e vediamo una serie di inquadrature che si fanno campo e contro campo che ci permettono di vedere i due personaggi. Quello che cinge il bicchiere di latte ha gli occhiali scuri, parla poco, ha movimenti molto lenti e controllati, e noi però vediamo attraverso i suoi occhiali scuri il riflesso di chi sta di fronte a lui. Quindi cominciamo a vedere la scena con i suoi stessi occhi. L'altra persona invece fuma una sigaretta e attenzione, perché la musica di accompagnamento, la colonna sonora si è quietata, ma i rumori dell'accensione della sigaretta si fanno più intensi, ce li fa percepire alzando nel volume il nostro Luc Besson e anche il fumo viene incontrato in primo piano, diventa protagonista. Da un lato bicchiere di latte, dall'altro sigaretta. Lo stereotipo del criminale è sicuramente più legato alla sigaretta. Quindi ci fa capire che c'è una situazione un po' anomala, perché abbiamo capito dall'atteggiamento che hanno i due che stanno parlando di una cosa importante e non sembrano essere dei bravi ragazzi dall'atteggiamento che hanno. Ma il bicchiere di latte fa contrasto. L'uomo della sigaretta inizia a fare una domanda di convenevole amicizia al nostro protagonista, scopriremo a essere le on, che risponde praticamente a monosillabi, gli chiede solo se stai bene, certo sto bene, e poi gli fa vedere una foto in bianco e nero. E gli dice questo uomo, questo ciccione bastardo, come lo chiama lui, sta cercando di portare via il lavoro a un Maurizio. In pratica è uno spacciatore di droga e sta rompendo le scatole a un altro spacciatore di droga che è collegato all'uomo del ristorante. Alle onvi ne sono chiesto sei libero martedì per occupartene, perché si deve occupare del problema, bisogna risolvere il problema di questo nuovo spacciatore che sta dando fastidio a Maurizio, il cliente dell'uomo del ristorante, l'amico dell'uomo del ristorante, e non vuole parlare con Maurizio. Bisogna convincerlo con le buone o con le cattive, più probabilmente, a parlare con Maurizio. E quindi chiede a Leon sei libero martedì? E Leon risponde sì, sono libero martedì. Continua a rispondere in modo lento e controllato e dicendo pochissime parole. Quindi cominciamo ad incontrare un personaggio che parla poco, che si muove con lentezza, che tutto ciò che fa appare ai nostri occhi molto riflessivo, molto controllato. fa il controllo della situazione. Dopo aver detto che è libero martedì, beve in un solo colpo un bicchiere di latte e la conversazione è finita. In pochi secondi hanno deciso cosa fare, perché Leon non ha bisogno di dettagli, ha solo bisogno della vittima dell'obiettivo e sa già cosa deve fare. È tutto sotto controllo, lui sa benissimo fare il suo lavoro e ce lo fa già capire in questo modo. Vediamo anche che l'altra persona è più spontanea nel computarsi, non è molto trattenuto. L'altra persona che è interpretata da Danny Aialo è invece molto più e che interpreta il ruolo di Tony, Tony è molto più il gangster da film italo-americano, come la sigaretta, il ristorante con il nome italo-americano, parolacce, comunque epiteti rivolti all'obiettivo che bisogna eliminare. Già questa scena è trattata in modo molto particolare. La scena successiva è la scena in cui il nostro Leon inizia a entrare in azione e la musica diventa veramente protagonista. Per prima cosa vediamo arrivare in un hotel l'uomo che avevamo visto nella foto in bianco e nero che scopriremo chiamarsi il signor Jones accompagnato da 4-5 uomini di scorta. si muove con grande sicurezza, si sente tranquillo, è nel suo territorio. La musica riparte, però è più andante, più vivace, più dinamica. Sta per succedere qualcosa e iniziamo a percepirlo anche dalla musica che ci sta caricando l'attesa di qualcosa. Sale in camera e ha parecchi uomini di scorta, alla fine sono una decina almeno, e in camera dice a due di loro che in mezz'ora devono occuparsi di una partita di droga. Dopodiché vede la ragazza che lo aspettava e ha un'ora. Dice esattamente così, qui c'è anche una nota quasi comica che ci fa vedere questo gangster che però di fronte alla ragazza perde un po' il controllo delle sue pulsioni. In questo momento l'appartamento in cui si trovano è tutto illuminato, la luce è un altro degli elementi che Besson usa per esaltare questa scena. è tutto illuminato e dove c'è luce è tutto sotto controllo. Ci sono delle telecamere a circuito chiuso quindi è in controllo è per questo che si sente così sicuro. Ci sono le telecamere, c'è la luce, non c'è nessuna minaccia che possa turbarlo. A questo punto fa la sua comparsa in scena León e León si contrappone alla luce che caratterizza Jones si contrappone l'oscurità, l'ombra di León che è un'ombra sul potere di questo gangster. Infatti il primo ingresso in scena di León in questa scena avviene con Serge e noi non vediamo León vediamo solo la sua ombra che si proietta su con Serge. Dopodiché uno degli uomini del gangster che era rimasto di guardia Tom chiama il suo capo al telefono e gli dice c'è qualcuno che ti vuole. Viene chiesto di descriverlo e risponde qualcuno di serio. Noi non vediamo León vediamo solo la pistola di León puntata sul viso di Tom. È sempre una scena in cui León non compare direttamente compare pochissimo León. Questo fatto di essere così sfuggente aumenta il senso di minaccia e al tempo stesso anche dà l'idea di un qualcuno che è talmente bravo da riuscire a fare le cose senza che tutti accorgani anche di dove si trova. Subito dopo León elimina Tom e il gangster Jones capisce che il suo uomo è morto perché sente lo sparo e incomincia questo gioco in cui lui vede i suoi uomini morire o li sente morire e grazie al telefono e alla tecnologia riesce a vedere questa cosa e quindi comincia a salire la sua paura. Però per il momento Jones è ancora tranquillo vada ai suoi uomini e dice attenzione che sta arrivando qualcuno. questi cominciano a perlustrare tutta la zona circostante e vanno sul pianerottolo ci sono le scale uno di questi rimane da solo sente il rumore di uno sparo perché viene eliminato un altro uomo come sempre non vediamo la morte ma ne sentiamo il rumore l'ombra sono dei flash che ci permettono di capire che qualcuno è stato eliminato e questo però qualcosa che percepiamo ma non vediamo fa salire la tensione fa salire la paura il nostro gangster guarda nella tromba delle scale e c'è un controcampo che ci permette di capire quanto sono profonde queste scale siamo in alto quindi ci sono parecchi metri per arrivare al pianerottolo a terra e improvvisamente torniamo all'immagine dall'altro lato siamo di nuovo dalla parte del gangster che sta guardando in giù Leon spunta da sotto si era aggrappato al balconcino e lo trascina per la cravatta buttandolo giù e capiamo che possono morire vista l'altezza che l'immagine del controcampo ci ha permesso di percepire quindi Leon dal nulla sbuca e lo vediamo coprire per un brevissimo momento è una specie di minaccia fantasma che continua a comparire la scena va avanti ha eliminato già diversi uomini ma ce ne sono parecchi altri da eliminare nel frattempo il gangster sta iniziando Jones il capo di gangster sta iniziando a seguire quello che accade tramite le telecamere un altro uomo viene eliminato anche questo non vediamo direttamente la scena ma ne percepiamo le conseguenze perché lui sta camminando nel pianerotto e improvvisamente un laccio lo afferra per la gola e in pratica viene impiccato e noi vediamo il laccio che lo afferra lui che sale in alto poi non vediamo più il volto ma vediamo il corpo che si muove e poi non si muove più e Jones vede questa scena quindi la paura comincia ad aumentare a questo punto il nostro Jones non è più così tranquillo spariscono le immagini delle telecamere a circuito chiuso quindi ci si accorge che Leon sta aumentando il livello della minaccia perché fa sparire anche il sistema di controllo allora il nostro Jones che fino adesso era rimasto anche abbastanza tranquillo e che ha iniziato a rendere i dollari che aveva con sé a mettersi nella giacca togliendoli dalla varigetta e che alla ragazza che gli chiede c'è qualcosa che non va risponde ma no tranquilla pupa però si vede che comincia agitarsi e noi cominciamo a percepire quello che in precedenza non vedevamo cioè comincia a sudare il protagonista del ruolo di Jones Frank Sanger ci viene mostrato in tendenzialmente sempre più sudato e sempre più affannato sentiamo il suo respiro sempre più affannoso è il modo di trasmettere la tensione la paura crescente di questo personaggio per ora però è ancora molto controllato di dare ordine ai suoi uomini però di controllare il terrazzo gli uomini vanno in terrazzo ed è ancora tutto illuminato improvvisamente si abbassa la tapparella e quindi Jones rimane all'interno al buio il buio è l'elemento di Leon l'abbiamo detto dove c'è luce c'è sicurezza dove c'è buio c'è Leon sentiamo il rumore degli spari ancora una volta vengono eliminati degli uomini ma non li vediamo mentre vengono eliminati capiamo che è successo si creano dei fori nella nella tapparella perché gli spari hanno bucato la tapparella ma sono pochi i fori perché Leon ha sparato i colpi strettamente necessari dopodiché vediamo l'occhio di Leon solo l'occhio attraverso il foro della tapparella anche qui un solo elemento del corpo di Leon fugacemente che dà l'idea di quanto lui sia in controllo della situazione e di quanto Jones debba invece temere un uomo capace di eliminare tanti dei suoi uomini così rapidamente e senza praticamente farsi vedere Jones vede l'occhio si spaventa e inizia a sparare in impazzate quindi c'è confronto tra Leon che spara molto controllato sui colpi necessari e Jones che invece spara tutto quello che ha ma perso l'ucidità tutto quello che fa Leon sono gesti controllati lenti sicuri mirati Jones va a casaccio e questo lo porta a sbagliare a questo punto è terrorizzato e inizia a correre per l'appartamento cercando nuove armi il caricatore cercando di scappare e c'è una musica che monta sempre di più monta sempre di più monta sempre di più mentre lui viene seguito dalla telecamera che un po' lo segue un po' lo anticipa e le riprese sono sempre molto mosse questo per darci l'idea dell'agitazione che cresce e il suo respiro si fa sempre più affannoso ha questo fiato che si sente sempre di più alla fine prende il telefono e decide di chiamare la polizia è un gangster che chiama la polizia un gangster che è completamente terrorizzato fuori di sé e noi lo vediamo ripreso di spalle mentre ha il telefono che si guarda intorno sempre affannatissimo e però non si accorge che piano piano sta sprofondando nell'oscurità probabilmente di un armadio e l'oscurità dell'elemento di Leon è infatti appena lui sprofonda cambio di inquadratura e vediamo il primo piano di Jones e Leon che spunta dal nulla praticamente e gli mette un coltello intorno al collo si chietta completamente il nostro Jones che smette di parlare stava già parlando con la polizia lascia perdere e Leon gli dice di comporre un numero nel frattempo la ragazza di Jones che stava uscendo vede la scena si spaventa ma Leon la lascia andare Leon ha una regola che scopriremo nel film niente donne niente bambini quindi lei non ha nulla da temere il nostro Jones compone il numero di telefono del lato Leon e risponde Maurizio il suo rivale il gangster per cui lavora Leon che gli dice malo modo di non farsi più vedere in città se non vuole morire il gangster preoccupatissimo Jones la consente assolutamente a questo punto il nostro Leon si ritira dopo aver parlato con Maurizio che gli dice assicurati che abbia capito e si diventa chiedere hai capito perché lui non ha bisogno di spendere molte parole spende sempre il minore numero di parole possibili e Jones preoccupatissimo spaventato gli dice si si ho capito Leon si ritira e come è comparso dal nulla ritorna nel nulla dell'oscurità e alla fine Jones lasciato libero da Leon è terrorizzato totalmente terrorizzato che quasi non ci crede si volta a cercarlo non lo vede più e finalmente può respirare non ha più la minaccia incombente ha il respiro sempre affannoso la musica sparisce e sentiamo solo il suo respiro e alla fine un oh Cristo detto con una liberazione e con un terrore però che si può sentire sono convinto che le sue mutande in quel momento non erano pulite come vedete per tutta la durata della scena la musica ha avuto un elemento fondamentale di sottolineatura di quello che stava per accadere di sottolineatura degli stati d'animo dei personaggi e le luci e le ombre ci hanno dato la dimensione dei personaggi e la caratterizzazione dei personaggi e poi questo contrasto tra il dinamismo affannato di Jones e la lentezza tranquillità e sicurezza nei momenti di lonti fa capire la differenza tra un improvvisato e un professionista quindi sono dieci minuti magistrali per me di grande cinema realizzati con tecniche registriche di alto livello e meritano assolutamente di essere visti e rivisti e gustati nel dettaglio perché ogni dettaglio è curato non sono scelte improvvisate tutto il film è meraviglioso peraltro e io lo consiglio a tutti e sicuramente prima o poi farò una recensione su tutto il film però oggi volevo concentrarmi su questi primi dieci minuti in cui Luc Besson dimostra tutta la sua bravura e con questo vi dico appuntamento al prossimo video e ciao